Tecnologia di monitoraggio wireless Visala Vinet Gli ambienti controllati possono essere complessi. È necessario un sistema di monitoraggio per salvaguardare investimenti di grande entità e un sistema failsafe per il controllo di una vasta gamma di parametri come temperatura, umidità relativa, CO2 e altro ancora. La tecnologia Vinet integra i data logger wireless Visala con il sistema di monitoraggio continuo ViewLink per fornire trend in tempo reale, report personalizzabili e allarmi affidabili. I data logger Vinet sono facili da implementare. Non appena i dispositivi vengono accesi, iniziano a registrare e trasmettere dati, ciascuno attraverso tale rete. Ogni punto di accesso Vinet supporta vari data logger wireless e si ripristina automaticamente da qualsiasi interruzione di corrente o rete, proteggendo i dati storici. In un'ampia gamma di applicazioni, da ambienti regolamentati a musei e archivi, alla produzione ad alta tecnologia, ai centri di stoccaggio e distribuzione, ovunque le condizioni ambientali possano influire sulla qualità dei prodotti o dei processi. Vinet è la tecnologia wireless a lungo raggio, proprietaria di Visala. La trasmissione dei dati avviene su una banda a bassa frequenza per evitare interferenze. I data logger Vinet hanno generalmente una portata del segnale di oltre 100 metri. Un segnale potente crea una rete semplice. Le normali ostruzioni, come muri in blocchi di cemento, scaffalature metalliche o attrezzature per carichi pesanti, non ostacolano il segnale Vinet. Il risultato è un minor numero di apparecchiature di rete e dati più affidabili. Le comunicazioni Vinet sono criptografate per proteggere da attacchi informatici, monomissione dei dati ed errori di trasferimento, in modo tale da assicurare l'integrità dei dati. Il software di monitoraggio Allarmi e Report ViewLink è semplice e intuitivo. I messaggi sullo schermo e le dimostrazioni integrate nel software rendono ViewLink facile da usare. Le dimostrazioni presentano tutte le funzioni principali e mostrano come eseguire le attività durante l'utilizzo. Trascina e rilascia le posizioni monitorate per una rapida analisi delle tendenze, per qualsiasi intervallo temporale. Per la visibilità in tutte le posizioni, carica immagini o schemi in una vista della dashboard. Monitora e gestisci le condizioni da lì. Configura rapidamente gli allarmi utilizzando modelli per entrambe le soglie o per i data logger. Gli allarmi possono essere inviati e riconosciuti tramite SMS, email, telefono e avvisi visivi locali. Grazie all'accesso mobile e basato sul web, il sistema può utilizzare fusi orari e scalare fino a migliaia di posizioni per un monitoraggio ambientale affidabile, semplice da configurare e da utilizzare. Grazie ai data logger Vinet a lungo raggio, ViewLink è in grado di fornire dati affidabili.